Non so se è possibile innovare ancora nel rock, direi sicuramente sì, nel senso che l'innovazione è sempre possibile, sarebbe pazzesco, anche proprio da un punto di vista psicologico, mentale, sociale, politico dire che non si può più innovare. Sì, si può innovare, quello che probabilmente è stato già fatto è stato, come dire, creare un territorio nel quale si è sperimentato tanto, ma anche allora, anche in fondo negli anni 60, negli anni 50, l'innovazione passava molto attraverso il rimettere insieme in maniera diversa le stesse cose, oppure cose che magari non si erano sentite, che però già esistevano. Sì, certo, c'è molta gente che si siede davanti al proprio strumento o imbraccia una chitarra e crea qualcosa che non c'era stato prima, sicuramente c'è, soprattutto nella seconda metà degli anni 60, questo c'è, però anche lì spesso e volentieri è veramente, è come uno chef, metti un pochino più di una cosa, un pochino meno di un'altra e crei un piatto o un ibrido musicale diverso. Credo che siamo in un'epoca nella quale l'unica grande cosa diversa rispetto ad allora è probabilmente l'entrata della musica elettronica, cioè la possibilità di suonare con dei campionatori, la possibilità di mandare in loop determinati suoni, i suoni elettronici stessi, cioè la grande diversità rispetto al passato di oggi è fondamentalmente l'elettronica. L'elettronica, la produzione, certo, adesso con gli edini studios possono fare cose che una volta erano assolutamente impensabili e si va infatti non a caso, spesso anche nei pezzi da classifica, si va verso un suono un po' industriale, un suono un po' robotico, un pochino meccanico. Quindi se tu mi chiedi come si fa a innovare adesso, io ti direi a meno che qualcuno non arrivi con qualcosa di incredibilmente nuovo che non si è mai sentito prima, cosa abbastanza improbabile, è una miscelatura, è un mix delle cose precedenti fatte in maniera diversa. Può creare anche delle cose veramente mai sentite, però in genere è un prendere degli elementi e rimetterli insieme in maniera diversa. Perché non esistono le grandi icone contemporanee? Sono quelle domande a cui è difficile rispondere. Allora, intanto ci sono, cioè non è che non ci siano, ci sono, sono diverse. Adele è una grande icona contemporanea, Jay-Z e la moglie, beato lui, Beyoncé, sono due grandi icone contemporanee. Quindi una musica che vende molto, che arriva alle masse, esiste in realtà, è un po' diversa da quella di allora, è più basata magari sulla capacità di come dire, di rendere bella una canzone, di inventarsi magari un ritmo nuovo rispetto ad allora in cui si inventavano degli interi settori nuovi. E poi non ci sono più le icone anche per un motivo forse di mercato, nel senso che si tende a rendere molto forte il pop in tutte le sue 1200 variazioni. Comunque una musica molto radiofonica, molto da ascolto, molto da classifica e questo forse leva un po' di spazio a quelli, non so, tipo i Radiohead che cercano invece, non che i Radiohead non abbiano spazio, ce l'hanno, però la maggior parte del mercato è orientata in una direzione verso la vendita. Mentre negli anni 60 e 70 non è che non fosse orientata verso la vendita, lo era, però si pensava di poter arrivare a vendere delle copie inventandosi delle cose nuove, cioè inventando dei filoni nuovi, mentre invece adesso si tende a pensare che si può vendere, come dire, rifacendosi alle solite cose, alle cose che hanno già venduto. Un'altra cosa ancora è la frammentazione della musica, mentre allora c'era il rock che era in qualche maniera onnicomprensivo, tu alla fine dell'anno compravi 50 dischi di rock, avevi comprato lo scibile. Adesso il rock vuol dire praticamente più nulla, perché anche lì ce ne sono mille variazioni diverse, la musica si è fatta molto di nicchia, è fatta tutta di nicchie, subnicchie, generi, sottogeneri e tutto il resto e questo probabilmente, come dire, spinge la creatività in tanti angoli diversi in cui si fa musica interessante, decisamente si fa anche adesso della musica interessante, per carità, però è musica che spesso rimane un po' confinata a un determinato pubblico, a un determinato genere, non diventa trasversale e onnicomprensiva di pubblico come lo era il rock negli anni fino a 20, 30 anni fa. Beh, guarda, ascolto anche, anche perché devo fare questi libri, ascolto anche molta musica vecchia e riscopro anche, risentire le cose degli anni 50, 60, 70 con un orecchio da anni 10 è uno strano effetto, perché capisci molto meglio le cose, le rimetti in prospettiva, capisci cosa in quel momento ti sembrava molto eccitante e magari non è ancora, o cosa ti sembrava straordinariamente nuovo e invece poi si è perso nel tempo, ci sono delle musiche un po' confinate, non so, il prog, meravigliosi, Genesis per carità, però il prog è per esempio una musica molto da quel periodo lì, si suona ancora adesso, ci sono ancora i gruppi, ci sono i festival, per carità c'è anche una rivista che si chiama prog, però è una musica abbastanza legata ai tempi, invece ci sono anche musiche di allora che sono assolutamente immortali, sembrano delle musiche giovanissime, delle musiche, io stavo risentendo il primo album dei Talking Heads l'altra sera, 77, è un album moderno, cioè un album che potresti sentire adesso e non capiresti che è un album di allora, quindi insomma dipende molto da quello che senti. Cosa sento in questi periodi di nuovo? Io ascolto un po' di tutto, ascolto veramente di tutto, cioè dalla musica etnica, mi piace molto, Africa, Sud America, India e tutto il resto, Caraibi, al blues, sia quello moderno sia quello che si va riscoprendo antico, ascolto, compro di tutto, dalla musica elettronica ai cantautori folk intimisti, compro veramente di tutto, se dovessi dirti una cosa sicuramente molto innovativa che c'è stata, ma stiamo anche lì però, sempre nell'ambito di un rimissaggio diverso di ingredienti preesistenti, sono i Kendrick Lamar, sono quello che ha fatto Orange, aspetta mi sfugge il nome adesso, quindi è questo rap, insomma sono dei piccoli Prince, voglio dire, come Prince aveva innovato la musica di James Brown, che aveva innovato la musica di Jimi Hendrix, che aveva innovato la musica, anche questi di adesso fanno questo, di cose che mi hanno stravolto sull'originalità, in questo momento non mi ne mente nulla, se parliamo di musica di massa, se parliamo di musica invece che devi andare a scovare nelle nicchie, negli angoli, eccetera, ce n'è tanta, ma la gente non lo saprà mai che esista.